Salve a tutti ragazzi, è la tecnologia Alciva in questo nuovo video di Borda 3 Sì sì arrivo, stai che c'è palla che sei però insomma sì Questa qui cos'era? Quella della consegna? Sì niente Andiamo avanti a fare la storia più molaria, vediamo un po' che succede Sono curioso, sono tanto curioso, è tanto lenta sta arma Ah sono i nostri, scusate Ma porca vacca, ma dove devo andare? Fatemi capire Devo andare là, beh non siamo tanto lontani, dai, ce la possiamo fare Andiamo un po' Chi è? 35? Potrebbe essere una cosa su cosa Ah sì sì, voglio vedere se funzionerò quel cazzo di coso Secondo me è una merdata, però vabbè Andiamo un po' col boss finale, se ho fortuna o meno Se no lo butto nel bidono subito, eh Le missioni secondarie me le faccio senza Poi magari Aspetto un po' prima di fare le secondarie Se volete qualcuno ha voglia di vederle Le faremo insieme Come extra Una volta finito il gioco Qualcun altro vuole provare? Forza, mandatene ancora! Sì sì, sono belli interessanti insomma Ok, possiamo andare Quindi ci sono tante cose che vorrei fare Adesso le farò Vediamo un po' Perfettico Ah, questo è cattivo, eh È l'inmodra dal tuo cranio Sento il potere in me Eh sì, il potere, il potere Una morte meritata Ok, posto Andiamo pure E siamo arrivati Eccoti Fatemi concentrare adesso Devo blandire quelle torrette con dolci parole elettriche Ah, dolci Ok Ah, mi fa piacere È il mio momento Ma, ma, fanboy Non ho più raggi L'ho segnato Ah, ok Così è troppo facile però Ok Non so perché L'ho segnato Però insomma Si toglie Eh, una volta è arrivato Ok Vediamo se c'è altra roba A me sembrerebbe di no Andiamo qua Vediamo cosa fare Io prendo tutto C'è quello che si può prendere Questa non è la nostra vecchia base No, mi sbaglio Eh Ok Perfettico Ah, pronti, grazie Ciao Ecco la nostra Tannis Tutto qua Ma aspettavo qualcosa di Insomma Ho preso il controllo delle torrette E promesso a tutte Che saranno perdonate Date il benvenuto Ai nuovi membri Dei Crimson Rider Che cosa carina Insomma Che hai detto Ecco qua Speriamo Oh Una cacata atomica Beh, mi fa piacere Dai Siamo a posto Io sono arrivato fino a qua Per non fare un cazzo Beh, sono contento Fino a Tannis Arrivo, eh E quindi Ah, devo andare di là Va bene Questo è un nemico No, è nostro È proprio solo loro Che Vabbè La solita Tannis Chi è? Aspetta un attico Ah Tutto qua? Ma che cazzo c'era qua Per capirci È uscita così Vabbè Si è contenta lei Va bene Andiamo pure E siamo a posto Ah, è proprio una zona Interessante Cattedrale Del Dio Tra gli dèi Insomma Tra di qualcosa Insomma Ok Per la rispalla Oh, chi c'è? Beh, 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 beh Per i Crimson Rider Forza ragazzi La Jacob Sei dalla tua parte Cacciatore Fai assaggiare a quei fanatici Il potere dei Crimson Rider Ok Si è fomentata Ok Andiamo pure Andiamo Andiamo Scusate Eh, scusate Eh, proprio Ma porca Dove devo andare di là Scusate Scusate Ma Stavo Mi stavo fomentando E dopo È uscito così In un momento Cadevo Facendo una figura di merda Va bene Sto arrivando Ma meno malo Eh, insomma Eh, che fatica Oh, porca Mi stavo Guardando Oltre Ho fatto la cacata No, dove cazzo Mi hai fatto iniziare Ma porca Di quella troia E ci vediamo dopo Ok, ho cambiato Ho preso questo Più o meno Siamo poco Prima Dove era caduto Sì, ma cazzo Non si può guidare Così di merda E niente Andiamo da piedi Che devo farci Eh, se no Cado giù È un casino Eh, porca vacca Se non faccio figure di merda Per attaccare il video Eh, dovrò staccare le mani E dopo È così Vabbè Troverò un altro Per la strada C'era Quanto mancherà? Eh, beh Siamo arrivati Tanto non penso Anche se dovessimo Arrivare là Insomma Siamo arrivati Sono contento Dai Niente qua Poi non c'è nessuno Quindi insomma Si fa anche bene Che potenza Eccoci qua Ok, vedete Non c'è nessuno Hai una pessima postura È quello che ti frega Ok Sono una leggenda Cazzo Eh, insomma Benissimo Dai Guida fino Eh, guiderei anche Ma ho perso la carretta Eh, ci vedete fa Ok E lì c'è una carretta Ok Quindi non dovevo guidare Vabbè Devo solo andare Perfetto Ciao Ava Ava come l'Ava E quindi Ehi cacciatore Questi me li ha dati Tina A te l'onore Grazie Che devo fare Ah No Salve porta E addio porta Grazie Tina Sono qui Ava Dai fai la prova Attenti Seguaci di livello Eridium Indossate i vostri occhiali schermati In edizione limitata Per poterci ammirare Senza perdere la vista Ci siamo gente È giunto il momento Vi affatterò tutti Ok Adesso arrivo Un attimo solo Vado alla grande C'è troppo casino Non riesco a capire Ok Felicico E calippo E calippo Dove cazzo siete? Porca vacca C'è bocca Esplosione da panico Mi fa tanto piacere Sopra Non capisco questo sopra Dove sia Hai appena fatto Un bruttissimo errore Capire La sopra Mi fa tanto piacere Insomma Vai Pronta a scatenare Il mio potere Infatti Vai Che è meglio L'ingresso L'ingresso è più avanti Ci vediamo lì Ah certo Altri Di qua Ok Ce la posso fare Ce la posso fare Vediamo se c'è qualcosa di buono Va che è meglio Non c'è un cazzo Quindi presumo Che devo andare qua Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Porca vacca Sarà divertente eh Eh già Potevi impegnarti di più Me la prendo con te Perché la mia vita fa schifo Ah beh mi sembra ovvio no Perfetto Oh Eh vedete qualcosa è uscito Un fucile a pompa Che è meglio il nostro Cioè è possibile che non riesco più a trovarlo Ma non è meglio il mio Va bene Non è che mi dia partito Mi piace sulla pistola E poi è nuova Insomma Ok Meno malo Beh mi sembra una cosa positiva no Cos'è Niente di che Ok Sì 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 arriva arriva rilassatevi Al volo Poca vacca Ah beh Meno male Ok Vediamo se c'è altro Gente Meno male Perché siamo Sì mi preoccupavo Vabbè Ah c'è qualcun altro Ma è lassù no Non mi interessa Andiamo qua Tutto divertente eh Un save Mi fa tanto piacere Ok Che zona è questa? Vediamo un po' Ah dicevo che era da uccidere Scusate Mamma mia È pieno di munizioni Oh aspettate un attico C'è un claptrap Ah è qui Ah è qui Che cosa Stavo per dire commovente Ma è più inquietante che altro Oh oh Un delizioso accessorio a forma di cuore Non so a cosa serva Ma non so dire di no Un bel accessorio Vabbè mi sembra giusto no Eh ma perché vacca Vabbè abbiamo trovato Una cosa positiva La no Eh io sono contenta Perché si trovano Andiamo pur via Siamo a posto Ecco qua Allora andiamo pure Di qua Ah ma c'è gente I miei pugni sono pronti Non è mai esatto Tutti poco Provate Roba da copertina È così bello Non devo capire A chi Devo colpire chi no Però insomma Ecco perché mi piace Il mio lavoro Ah a me Che piacere Vabbè vaffanculo va Eh vabbè Ho fatto la cacata Ho fatto appogno Questo è il potere Delle dei gemelli Non sai fare meglio di così Ok Vado vado Aspettate un attico Annegateli nel vostro stesso sangue Se dovete Sei quanto me ne frega Fatelo e basta Ok Mi siederò qui A pensare alle mie scelte di vita Ok Scegli questo Sì sì Sopressati Sopressati Meno malo Perché mi stavo preoccupando Insomma Se non ti piacesse Sto arrivando Sto arrivando Ah questo è mio Che è che sta sparando Non fermerà Non faccio capire Maledettissimi Predoni Ok Mi scelno un attimo perso Eccolo qua Abominio Abominio Sì sì Abominati Non è difficile Sì Ok Direi che li abbiamo ammattati Voi cosa dite? Ok Andiamo pure avanti Questa pittolina È proprio Eh Soprafina Devo andare di qua Come c'è di qua? Forse di qua È un problema Perché non capisco Di qua son venuto Poi dovevo andare di qua Che poi vado di là Secondo me sì Più o meno si sale di qua Dai Aspettate Aspettate Ok E vediamo un po' Poi di là Sì Secondo me è qua Più o meno È lì Ok Ho capito Salve Lei è molto bello Sa? Pensavo fosse più duro Vabbè È stato un piaciore È stato divertente Poi Nient'altro Oh ma salve Vediamo se c'è qualcosa di buono Ma una caccata Detto l'altra La stiamo prendendo Vabbè E quindi Questo Questo Tutta tua Svuota cripte Vanno a questo il mio Ma io che cazzo devo fare Ah devo andare Che cazzo sto a fare Finalmente posso farmi valere Sì sì Fatti valere Fatti valere Un massacro totale Beh in effetti sì Un massacro totale Lancia di nullità Ammazzate i pretoni Della cripta Ora Ascoltatelo Amori miei La grande cripta Ci chiama Presto potremo Trascendere Tenete gli eretici Lontani da noi Mentre completiamo La nostra Divina Trasformazione Ah che cosa bella Ok Di calco E siamo a posto Vai vai Che perdita di tempo Mamma mia Non riesco neanche a finire di parlare Mi fa tanto piacere Sì sì C'è una leggendaria Ma non la vedo Ah è qua Che cazzo E questa non è leggendaria E questa Cazzo è leggendaria Eccola qua Ma porca vacca Eh vabbè pazienza Allora dobbiamo tagliargli Lettorre Che cazzo mi ha chiesto Ah questo Usa Usa Sì sì Ma rilassati però E' l'acciaio E' chi odia i macchi Che è Ciao E' immune Sì mi farebbe bene Allenarmi un po' Sarà anche immune Però intanto L'esposione Riprende Ah beh Sembra giusto Che ci abbia provato Vabbè Andiamo di sopra Sto punto Che ne dici Che ne dici? Non ho capito Scusa Ne dico Ne dico Allora vediamo un pochino Dove sono Sti cazzarola Di cosi Sanno qua Dai Come che siano Eh Di qua Ok Qui E l'altro È di là Oddio Sono caduto Mi fa tanto piacere Per te Insomma Non è il mio Ah bene A piacere insomma Vediamo un po' Settemila Caità Però insomma sì Allora vediamo un po' Di qua devo andare E vado di qua Se devo andare di qua Ancora più su? Ancora di più Come diceva E' là che devo andare Se di sparo Non c'è di niente No? Quindi devo fare Un giro struso Va bene Vediamo un po' Di qua Dove sei? Dove sei? Ah sì qua Abbiamo finito? Eh sì A quanto pare E di qua Ok E ce l'abbiamo facciamata Sono contento Cazzo sì Così funzionerà Un punto debole Ottimo Colpisci lo cacciatore Eh riuscire a farmi arrivare Un punto debolo Ok Siamo sicuri? Ah questo Ok Perfetto Ciao Ciao Eh Che roba È stato proprio Un bel botto Eh Ora ferma Troi E facciamola finita Ok Io direi che non c'è niente Quindi possiamo andare direttamente là Ma lo faremo nel prossimo episodio Così almeno ci godiamo il tutto Quindi ragazzi Come solito Ti invito a lasciare un like E anche un commento Se piacere la serie di Fabio Per poter sapere Cosa ne pensate Per il momento Vado sotto la Shiba Ciao ciao Ciao